La Juventus ristabilisce le gerarchie del campionato, torna prima in classifica, batte l'Inter nel derby d'Italia e tutto sommato dimostra di essere superiore all'Inter, anche se poi l'Inter tutto sommato, soprattutto nel primo tempo, passata la sfuriata juventina nella prima parte, poi tutto sommato ha anche giocato bene, ha pressato alto, ha avuto quell'occasione con un tiro di Brozovic, anche se poi aveva un'occasione da fuori aria. Nel secondo tempo era ripartita anche con una certa perva, poi il gol della Juventus di Ramsey, anche se con deviazione significativa da parte di De Vrij, gli ha tagliato un po' le gambe, di lì in poi è uscita fuori la Juventus che comunque ha delle qualità importanti, tenete presente che Di Bale era in panchina, è entrato qualche minuto dopo il gol del vantaggio e si è inventata una magia proprio, gli ha spostato, sembrava veramente Omar Sivori e credo che forse Sivori abbia fatto proprio un gol del genere, in pratica gli ha spostato la palla con una finta di sinistro e poi una mezza puntata, insomma un tocco proprio di biliardo e gliel'ha messa all'angolino, tenete presente che nel primo tempo Andanovic che oggi era rientro, aveva fatto due bellissime parate, una su un colpo di testa di De Ligt, una bella spizzata volante sul calcio d'angolo e lui in angolino basso si era proteso in tuffo a parare e poi in altra su un tiro in diagonale di Matuidi mi sembra, di Matuidi sempre nel primo tempo e poi niente, questi due gol chi è che mi scrive mentre io sto facendo il video come al solito chiaramente, comunque ragazzi Juventus torna meritatamente in testa al campionato e staremo a vedere poi che succederà da oggi in poi, se lo fermano questo campionato e nel caso lo fermano che succede? Cioè assegnano lo scudetto in base alla posizione attuale, la retrocessione in base alla posizione attuale oppure si recupera? E quando cazzo si recupera? Che poi ci stanno anche gli europei? Oppure sospendono gli europei e quindi se gioca l'estate? Non lo so, non lo so, non lo so, avete rotto il cazzo mentre stava a fare il video e si scrive? Non lo so, va bene comunque, buona giornata a tutti.